Dopo un anno di stop per la pandemia di Covid, torna a Cavriglia il simposio di sculture a Pietra Sublime, presentato nella sede della Presidenza regionale. 12 artisti, provenienti da tutto il mondo, scolpiranno ciascuno un blocco di travertino altro quasi tre metri nell'area di Bello Sguardo, destinata ad ospitare queste creazioni e quindi a diventare un immenso parco d'arte che il Comune, in accordo con gli organizzatori, ha deciso di dedicare alle vittime del Covid. È una bellissima mostra e soprattutto è evocativa di un luogo perché queste grandi sculture danno un senso di bellezza e di, come dire, armonia con il territorio naturale che in un posto splendido come Cavriglia, il Parco di Bello Sguardo, la offre un'iniziativa di richiamo non solo nazionale ma internazionale. Il simposio sarà inaugurato il 30 maggio e si chiuderà il 13 giugno. Quindi 12 artisti provenienti da varie parti del mondo ci raggiungeranno a Cavriglia per scolpire dei monoliti giganti e creare un'opera d'arte. Quelle opere d'arte, a differenza della prima edizione che le abbiamo distribuite nel territorio per nobilitare i vari paesi, le collocheremo tutte in prossimità dei circuiti ciclopedonali di Bello Sguardo, ovvero dove sarà realizzato il simposio stesso per creare il primo, credo, grande parco artistico di arte in Italia dedicato alle vittime del covid. Durante il simposio sono previsti appuntamenti culturali e incontri con gli scultori.